Ciao! Qualche giorno fa Giulie Cappi, che saluto, ciao Giulie, sul gruppo Vivi con le tizie ci aveva chiesto aiuto per fare della neve finta fatta in casa. Ho trovato alcune alternative che secondo me sono molto carine, sicuramente qualcuna la conoscevate già, comunque sono tutti spunti molto interessanti per fare proprio la neve finta fatta in casa. Ditemi se ne conoscete qualcuna di diversa, quindi lasciate i vostri suggerimenti nei commenti sotto a questo video. Io vi aspetto sul gruppo Vivi con le tizie, quindi venite a iscrivervi che vi aspettiamo. Iscrivetevi al canale, lasciate il vostro like al video e noi ci vediamo alla prossima. Buon divertimento! Ciao! Buon divertimento! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.